Ciao a tutti e bentrovati. Con la trasmissione di oggi riprende Chiesa Livorno Informa l'appuntamento quindicinale di informazione e approfondimento sulla realtà ecclesiale livornese. Questa prima puntata sarà dedicata in gran parte ad un evento, il talk show dare speranza con il lavoro incentrato sui temi del porto promosso dall'ufficio di pastorale sociale del lavoro e dal progetto culturale diocesano. Il talk show ha visto protagonisti i principali attori della vita portuale livornese, un incontro che è stato anche un confronto su temi concreti, il bacino di carenaggio, il piano regolatore del porto, il dragaggio dei fondali ed è stata anche un'occasione di dialogo per risolvere alcuni problemi in vista di uno sviluppo futuro del porto che magari porti anche nuova occupazione. Ma prima di ascoltare le interviste realizzate grazie alla collaborazione degli amici di Gran Ducato sentiamo il nostro vescovo Monsignor Simone Giusti che ci parla del nuovo libro. Monsignor, tra poco uscirà il suo nuovo libro dal titolo Corri Tempo la festa si avvicina. uscirà in questi giorni in cui, ricordiamo i defunti, ma c'è qualche legame con questo tema? Certo, di sicuro. Vedete, per cogliere il dramma dell'inferno, credere all'inferno, non ci vuole nessuna fede. Basta andare al cimitero dei lupi e vedere quanta gente c'è lì da secoli e secoli e secoli e ti domandi, ma la morte è invincibile? Noi siamo tutti decondannati a morte, prima o poi tutti si andrà a finire sottoterra o in un bell'oculo? Veramente noi siamo destinati a rimanere soli, a perderci in una terra o in un pezzo del muro senza poter più stare insieme a tutte le nostre persone care? Noi di fronte al tema della morte, già sono sicuro che qualcuno mi sta ascoltando e mi sta vedendo e dice, ma questo vescovo stasera non c'è altro di cui parlare, perché quando si sente parlare di morte e si tocca ferro, sentiamo subito un'avversione, perché sentiamo un'avversione? Perché noi ci guardiamo a parlare di altro, ma non della morte, perché è una nostra nemica, ma allora noi dobbiamo essere della gente rassegnata di fronte alla morte? Se si trova delle medicine per salvare babbo, mamma, un figliolo da un tumore e si fa le cose più incredibili, ma qui c'è una medicina per salvarci dalla morte o dobbiamo essere della gente rassegnata? Anzi ancora, un'altra provocazione, ma la morte, Dio, è invincibile? Ma la morte, questa realtà tremenda che rappresenta anche il maligno, è veramente qualcosa verso il quale non possiamo fare nulla? Ecco, credo proprio di no, ecco che noi abbiamo celebrato quest'oggi della giornata dei santi, che ti fa vedere chi è che vince la morte, i santi, poi coloro che sono grandi nell'amore verso Dio e verso il prossimo, vincono la morte, ma allora la strada c'è, la via dell'amore, su questo tema dell'amore so che ormai tanti mi ci fanno le battute sopra, ma è proprio qui, noi siamo contenti quando si ama, noi siamo contenti quando il nostro cuore è pieno di dono, se ti aiuta una persona, ti doni ad essa, sei anche contento, ma questa è la via per vincere la morte e il nostro Signore Gesù Cristo ci l'ha testimoniato, in questo nuovo libro che sta uscendo in questi giorni voglio far cogliere le ragioni della speranza cristiana, cioè i motivi per cui la nostra intelligenza ci fa dire, ma guarda lì, ma noi non siamo mica dei condannati a morte, c'è una strada, da secoli e secoli è stata inaugurata questa strada, che è la strada della croce, che è la strada della vittoria sulla morte di nostro Signore Gesù Cristo. A cosa serve andare in chiesa? A scandare le panche? Certo che no, serve a poterci nutrire della forza e della presenza di Cristo tramite la Santissima Eucharistia per essere generati a vita nuova, per vincere la morte, si va in chiesa per vincere la morte, non per scandare le panche. Adesso, come detto nel sommario, ascoltiamo il servizio sul talk show a proposito del porto. Trovare nuovi posti di lavoro a breve per le tante persone che sono senza lavoro, anche stamani ho ricevuto una lettera da alcune persone che sono impiegate in quella industria ceramica che sono in grosse difficoltà, anche loro chiedono aiuto, erano venuti a trovarmi altre persone ancora di altre industrie. È evidente che il Vescovo è un padre, accoglie tutti, ma si preoccupa di tutti, come un padre cerca un poettino di trovare lavoro a tutti, evidente non sta a me ora qui, sta a me però cercare di mettere insieme le persone affinché trovandosi d'accordo, vedendo di individuare dei percorsi possibili di sinergia, di collaborazione, di intesa, si possa arrivare davvero a dare una risposta alle grandi povertà della città, soprattutto col lavoro. Abbiamo pensato a questo perché abbiamo pensato che il lavoro sia in questo momento la realtà più importante da affrontare anche a livello culturale nella nostra città, per cui partiamo dal porto che è il motore economico della città per eccellenza e partiamo da questa realtà per vedere se riusciamo a trovare segnali di speranza per il futuro. Dopo il porto affronteremo le realtà del commercio e delle realtà dell'innovazione tecnologica, ci saranno altri incontri tipo questo dove vorremmo non fare dei dibattiti ma vorremmo affrontare dei temi concreti e vedere se si riesce a trovare delle questioni da risolvere e possibilmente dei nodi da sciogliere per poter dispiegare le potenzialità della città. Resta da fare molto perché noi ci troviamo con un'azienda, mentre la Magda è ancora sul territorio, per la Delphi sul territorio non ce l'abbiamo, per cui è ricercare, costruire e ricercare lavoro. Ricercare imprenditori e fare una politica di attrazione. Vorrei dire che il porto in sé, rispetto al mondo che è cambiato e ai sistemi del trasporto che sicuramente non sono più quelli del passato, è un punto di un sistema e il sistema che noi vogliamo costruire è un sistema della logistica all'interno del quale c'è l'Interporto e c'è tutto l'Interland di Livorno. A noi fa estremamente piacere che il porto sia argomento di così grande interesse da suscitare dibattiti ad ogni livello in ambito cittadino, dal Consiglio Comunale ai circoli e addirittura alla Curia che ha sentito la necessità di aprire un confronto anche su questi temi. Noi amministriamo il porto, la nostra missione è creare nel porto le condizioni perché imprese e organizzazioni sindacali possano sviluppare le migliori condizioni di lavoro. Credo che ci stiamo lentamente riuscendo, la situazione è complicata, è complicata per le situazioni locali ed è complicata per la crisi generale che il mondo del trasporto marittimo sta vivendo. Però onestamente credo che si possa dire che alcuni passi significativi si stanno facendo sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista dell'assetto delle regole di operatività nel porto. Quando noi abbiamo cominciato questa avventura col Presidente Callanti tutta la comunità portuale ci ha chiesto di ripristinare il rispetto delle regole che evidentemente erano state un po' elasticizzate, diciamo così. Quindi se questa domanda viene dal basso, viene dal mondo del lavoro e delle categorie significa che c'è un fondamento. Noi anche su questo credo che abbiamo dato dei segnali importanti. La città è pronta ad accogliere i turisti, i croceristi? Non era pronto il porto perché sta superando ora un gap infrastrutturale dedicato che è necessario per recuperare gli standard di efficienza rispetto anche ad alti scali. La città bisogna che faccia un salto culturale perché questa è un'industria ma è un'industria della vacanza, dell'accoglienza, del ricevere e quindi credo che ci sia bisogno di lavorare molto da quel punto di vista. Novità che è scaturita dal nuovo piano industriale e dall'assemblea dei soci che la nuova missione nel tempo di Interporto non sarà più quella solo di occuparsi della parte immobiliare ma anche di diventare attore attivo nel campo della logistica e questo apre scenari completamente nuovi e di grande prospettiva per lo sviluppo del porto, dell'Interporto e anche del territorio. Nei prossimi giorni riparte la Scuola di Formazione di Teologia Diocesana. Il primo incontro per tutti gli operatori della carità, della catechesi e della liturgia, principianti e non, sarà a venerdì 8 novembre in due sedi e momenti diversi. Il primo incontro sarà alle 18 alla Chiesa di Santa Croce a Rosegnano Solvè. Il secondo incontro sarà alle 21 alla Chiesa dei Sette Santi. L'invito è rivolto anche a chi non è ancora iscritto. I due incontri, infatti, avranno uno scopo organizzativo, durante i quali saranno date tutte le delucidazioni e saranno consegnati i calendari delle lezioni. Una delle novità di quest'anno riguarda gli ambiti delle catechesi e la carità, che avranno dei momenti di attività comuni. Da venerdì 8 a domenica 10 di novembre, il Vescovo guiderà, presso la struttura Regina Mundi del Calambrone, gli esercizi spirituali per i giovani copperi fidanzati e disposi. Un'occasione di riflessione sul tema della morte, che prende spunto dal nuovo libro di Monsignor Giusti, dal titolo Corri Tempo si avvicina alla festa, che uscirà nei prossimi giorni. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito diocesano www.diocesilivorno.it E adesso alcune notizie per le prossime settimane. Sabato 2 novembre, nel giorno della commemorazione dei defunti, il Vescovo sarà presente nei luoghi del ricordo con questo programma. Alle 9.30, benedizione al cimitero di Santa Giulia. Alle 10, Santa Messa al cimitero comunale. Ore 15.30, Santa Messa al cimitero della Purificazione. E alle 16.30, Santa Messa al cimitero della Misericordia. Domenica 3 novembre, alle 17.30, in cattedrale, in missione del nuovo proposto della cattedrale Monsignor Pietro Basci e del canonico penitenziere Don Mario Sorbi. Lunedì 4 novembre, alle 18.30, in ospedale, tavolo dell'oggettività. Il Vescovo si riunisce con i primari dell'ospedale. Mercoledì 6 novembre, alle 18.30, Santa Messa in occasione del trentesimo anno di ordinazione presbiterale del Vescovo e a missione agli ordini sacri del seminarista Francesco Paone alla chiesa di Serraniere a Guasticce. Giovedì 7 novembre, alle 17.30, nel Salone della Provincia, incontro del Serra Club dal titolo Centralità dell'Etica nel processo formativo. Venerdì 8 novembre, alle 21, inizia la predicazione degli esercizi spirituali del Vescovo a giovani sposi e fidanzati al Calambrone. La predicazione continua nella giornata di domenica 10 novembre. Sabato 9 novembre, alle 18, in Santa Messa, in occasione del primo anniversario della Chiesa Beata Madre Teresa di Calcutta. La messa sarà celebrata da Monsignor Giusti. Domenica 10 novembre, alle 11, il Vescovo presiede la Santa Messa in occasione della festa patronale alla Chiesa di San Martino a Parrana. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo fra 15 giorni. Ciao!